Vicino a un pianeta lontano e ignorato da tutti, Freezer sta conducendo una strana esercitazione militare. Cosa avrà intenzione di fare questa volta? L'operazione speciale di Freezer Stupidi Namecciani, così deboli e indifesi! Non meritate di avere un pianeta vostro! Dovreste essere grati di entrare a far parte della grande madrepatria di Freezer o almeno quelli di voi che rimarranno vivi! Non così in fretta, Freezer! Goku, sempre con molta calma eh! Dannazione, non era previsto che gli fregasse qualcosa di questo pianeta! Che stai combinando questa volta? Ma niente, vedi ecco io sto aiutando i Namecciani a catturare i satanisti! Sei un genio Freezer Catturare satanisti? Assolutamente, non sai quanti ce ne siano al giorno d'oggi! Non è vero Goku, sai bene che io credo in Re Kaio! Freezer non ci cascherò due volte, tu vuoi solo conquistare il pianeta! Lascia subito in pace Namecciani o sarò costretto a fermarti! No, no, no che stai dicendo Goku per carità? Professor Orsini! Non puoi venire qui a minacciare le persone, c'è bisogno di diplomazia! Ma Freezer sta massacrando tutti i Namecciani! Ma devi usare la diplomazia e non dire Freezer cattivo, Freezer mostro! E ha distrutto interi pianeti! Certo e i Saiyan come te, io non ho paura di dirlo guardate che coraggioso che sono, hanno fatto cose ben peggiori! Boom baby! Ma io non ho fatto niente! Ti prego Goku aiutami, Freezer ha distrutto le nostre città! Oh poverino! Maledetto mostro! Non insultarlo Goku che poi è colpa tua se lo fa fuori! Scusami! E non traiamo conclusioni affrettate alla propaganda e da entrambe le parti! In che senso? Che mente inferiore che sei! Pensaci Goku il Namecciano ha tutto l'interesse che tu lo aiuti! Potrebbe aver inventato tutto! Concordo! Dobbiamo sentire entrambe le parti! Freezer hai davvero distrutto le loro città? No! Come immaginavo la verità è molto più articolata! Ma sta per spararmi un raggio di energia! Questo lo dici tu Freezer, stai per sparargli un raggio di energia? No! Come immaginavo la situazione è molto complessa! Ma lo vedi che mi sta puntando il dito? Ti sto solo indicando! Per quale motivo? Per dire che tu sei un grande stupido! Professor Orsi, mi stimo molto la sua preparazione accademica, ma che ne dice se mi trasforma in Super Saiyan e risolvo la questione? Ma sei impazzito Goku! Si appunto niente è Super Saiyan! Perché? Rischieresti di creare un escalation! Un escalation! Un escalation Goku! E allora do un po' della mia energia a Junio! Ma poi c'è... Un escalation! Un escalation! Ti ricordo che Freezer può far esplodere un pianeta! Posso far esplodere il pianeta? Tutti ormai possiamo far esplodere il pianeta! Goku, Goku cerca di seguirmi! Premesso che sono contro Freezer, contro i Saiyan, contro i Namecciani satanisti! Ehi! L'unico mio desiderio è avere la pace! E come facciamo senza intervenire? Nella stessa maniera con cui sei ottenuta durante tutte le guerre, parlandone con calma! Freezer, puoi smetterla di attaccare i Namecciani? Non sto attaccando nessuno, sto portando loro la pace! E allora perché li stai massacrando? Perché non vogliono che porti la pace! Cosa vuoi per andare via? Voglio il loro pianeta e che voi non vi impicciate! Possiamo trovare un punto d'incontro? Il punto d'incontro è in mezzo alle mie chiappe! Potremmo? Ah! Brutto mostro, ora mi trasforma in soprassoio! Goku, Goku, qualcosa mi dice che tu non vuoi davvero la pace! Certo che voglio la pace! E allora ritenta, prova a usare che so la parola per favore! Freezer non mi ascolta e se non faccio niente Namecciani verranno sterminati! Non tutti Goku, non tutti, qualcuno rimarrà vivo! Ma... Per l'amore del cielo Goku vuoi smetterla di essere egoista, pensa ai bambini! I bambini? Preferisco che i loro bambini vivano sotto il regno di terrore di Freezer piuttosto che rischino di morire perché qualcuno ha provato a salvarli! Cosa? Nobel per la pace subito! Non ci avevo mai pensato! È normale che tu non ci abbia pensato Goku! Non sei abituato a pensare velocemente come me! Ti prego Goku aiutami! No Junior, il professore ha ragione! Dobbiamo pensare ai bambini! Ti prego non abbandonarci! Ho capito finalmente cosa sia la pace! Non voglio rischiare di ferire qualcuno durante lo scontro! Addio Freezer! Conquista pure il pianeta! Fai ciò che vuoi! Torturali pure! Ehi aspetta! Ma promettimi una cosa! Non fare del male ai bambini! Faccio quello che voglio! Ne riparleremo con calma! Bye bye Freezer e Junior! Buona pace! Buona pace Freezer! Goku? Goku mi hai lasciato qui da solo con Freezer! Goku? Goku ora puoi portarmi a casa? Goku aiutami!